6,40 euro a Livorno, 2,75 a Prato, sono i due estremi della classifica regionale sul costo delle mense nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole primarie. È quanto emerge dalla sesta indagine sulle tariffe delle mense scolastiche elaborata da Cittadinanza Attiva, che ha passato in rassegna tutti i 110 capoluoghi di provincia, prendendo come riferimento una famiglia composta da due genitori e un figlio minore e con un reddito lordo annuo di 44.200 euro che corrisponde a un'isee di 19.900. Livorno la più cara anche a livello nazionale per quanto riguarda le mense delle elementari per gli asili in testa alla graduatoria Cettorino, Prato tra le più economiche insieme a Barletta, Oristano e Cagliari. In Toscana le famiglie spendono in media 90 euro al mese e 810 all'anno per le mense scolastiche. Sotto queste soglie solo Firenze, Siena, Lucca e Prato. Sopra tutte le altre con il primato di Livorno, la cui spesa media annua supera i 1.150 euro, seguita da Massa con 990 euro e da Grosseto con 900. Arezzo è l'unica città in Toscana ad applicare costi differenziati tra le scuole dell'infanzia e le scuole primarie, rispettivamente 4,76 euro e 5,10 euro. Cittadinanza attiva ha puntato la lente anche sui fondi PNRR destinati alle mense scolastiche. Oltre 17 milioni e mezzo lo stanziamento totale in Toscana con 43 mense interessate, 24 di nuova costruzione, 6 quelle che saranno demolite e ricostruite con superfici più ampie, 4 quelle che verranno realizzate in spazi già esistenti e riconvertiti, 9 infine quelle che saranno riqualificate.